Mi chiamo Stefano Campanari, lavoro per l'Associazione Scambio Europei e mi occupo dello Sportello, una finestra sul mondo. Lo Sportello è un servizio di consulenza sulle opportunità di mobilità europea per i giovani che vogliono andare all'estero, quindi forniamo ad ogni singolo profilo, a seconda delle proprie esigenze, tutta una serie di indicazioni e di opportunità che esistono per vivere un'esperienza all'estero. Il servizio è completamente gratuito ed è ospitato dall'Informa Giovane di Bologna. Lo Sportello è rivolto quindi a tutti i giovani che sono interessati a partire e che vogliono avere maggiori informazioni sulle opportunità esistenti per vivere un'esperienza anche finanziata dai fondi europei. Il Covid purtroppo ha cambiato la società in cui viviamo e il modo di viaggiare ovviamente. Al momento, a seconda delle destinazioni, ci sono diverse normative da seguire. Noi consigliamo sicuramente di tenere sotto controllo il sito della farnesina viaggiarisicuri.it e comunque lo Sportello è a disposizione anche per aggiornarvi sulle ultimissime disposizioni. In valigia, prima di partire, metterei sicuramente tanta voglia di mettersi in gioco, magari una mocha dai buoni italiani e tutto il kit anti-Covid che oggi è fondamentale.